Ciao Pino, io sono un fan di Fabri Fibra e ho letto il suo libro di etrologia e mi ha colpito per i contenuti senza filtro e racconta l'Italia come oggi, insomma te lo consiglio a prescindere dal suo genere musicale tu cosa ne pensi di lui? Un saluto anche a Jack da Andrea Io devo conoscere le persone, perché ho conosciuto un sacco di gente che parla bianco e poi dentro sono neri come l'inferno non lo conosco, le cose che dice nei testi mi piacciono sicuramente Ah ma avete letto il mio libro? Fottetevi tutti, l'avete letto? Provate a leggerlo, magari scaricatevelo, non ho compratelo fate un po' il cazzo che vi pare, ma leggetelo, una grande lezione e questa non è arroganza sono un fiero della mia vita, della mia dignità, delle mie palle e lo vorrei dire a tutta quella gente che si vendono il buco del culo a che cazzo serve se vi siete venduti la dignità? Ma non è che poi alla fine facete una vita in merda, no? Jack L'uomo